Ciao ragazzi, oggi collaborazione speciale. Innanzitutto vi fate sentire il profumo di queste rose perché è davvero buonissimo. L'autrice con cui collaboro oggi l'avevo scoperta due anni fa con un libro sui vampiri che ho comprato subito. Vi faccio vedere quello di oggi? No, dai sì, ve lo faccio vedere. Il libro è semplicemente Maya di Gabriella Francia. Gabriella Francia l'avrete già vista sul mio profilo varie volte. Semplicemente Maya parla di una ragazza che è in a rimettere in discussione tutto. Nel frattempo incontra anche Ben e Dante, due personaggi, il primo sempre in seguito dai propri guai e il secondo un affascinante dottore che ha lasciato la carriera a Los Angeles da medico per mettersi alla prova e qui scopriranno che a vincere le proprie paure ne vale davvero la pena. Spero che questa trama vi ispiri perché a me è ispirato tantissimo, infatti l'ho scelto tra tanti urban fantasy che è il mio genere un po' per cambiare. Vi aspetto per il prossimo. Ciao ragazzi, un bacione dalla libreria di Gemma. Ciao!